Nell'ambito di Castiglioni Film Festival c'è stato un altro appuntamento importante che è quello con Toscana in giallo. Un'idea che è nata di costruire questa serie di racconti, un'antologia tutti insieme assassinatamente e poi è nata questa premiazione, questa bella serata. Allora, devo ringraziare tutti gli scrittori perché abbiamo un bellissimo libro e io spero che abbia successo perché ci sono dei racconti straordinari, c'è anche il tuo, quindi sono felicissimo di averti con noi e spero che sarà l'inizio di una serie di antologie. Mi sono dedicato con molta passione perché sono il curatore, ho una buona casa editrice dalla mia e quindi più di così cosa vuoi. In effetti non ci aspettavamo tutte queste adesioni, questi racconti che sono arrivati e che Lucio ha curato in maniera veramente eccelsa ed è un'avventura che vogliamo continuare a portare avanti anche l'anno prossimo come Lucio ha anticipato e siamo molto contenti. Qui accanto a me Ivan Cattani è un'emozione, un cantante, un cantautore veramente che ci fa piacere avere qui ed anche... E anche una mia collega. Sì perché abbiamo scritto eh. Abbiamo fatto questa antologia insieme, lei in un racconto, come si chiama il tuo? Il mistero delle pappardelle avvelenate. Ah ecco, invece il mio è I dolci amanti della Rufina. Io ho scritto della Rufina perché io ho abitato alla Rufina, ho abitato per un anno e avevo un grande amore, che c'è tuttora, anche se non è più un amore però... C'è sempre questo legame. C'è grande stima e quindi conoscevo bene la Rufina, tutti i dintorni, Vicchio dove è nato Giotto, poi Scopetti e tanti altri posti e quindi sapevo e ho ambientato la mia storia alla Rufina.